Direct Marketing è stato un appuntamento svelato da bravi professionisti come Giovanni Cerminara, a Cristina Papini, Alessandro Gaetano e abbiamo esaurientemente risposto alle domande della platea e alle domande che ho posto io su quali sono le migliori modalità di ingaggio che oggi comunque un'azienda necessita per dialogare con un cliente che utilizza, e lo dico spesso, gli strumenti e i social meglio di noi. L'appuntamento è stato interessante perché è riuscito veramente nella brevità della nostra esposizione a raggiungere e a divulgare quali possono essere le modalità di relazione con, come è stato annunciato poi anche da Giovanni all'interno dell'appuntamento, una particolare attenzione proprio all'economia dell'attenzione che dobbiamo riservare al nostro cliente quando andiamo a dialogare con esso. Grazie